La protezione civile della regione Campania ha emanato un avviso di criticità per rischio medio ad andate di calore. A partire dalle 14 di ieri e fino alle 14 di sabato 15 luglio, nei comuni del territorio regionale classificata a rischio moderato ed elevato, si prevedono temperature al di sopra dei valori medi stagionali di 4 o 5 gradi e un tasso di umidità, che soprattutto nelle ore serali e notturne, sul settore costiero e sulle zone più annuncianti potrà superare anche il 70% in condizioni di scassa ventilazione. Le raccomandazioni da parte della protezione civile sono sempre le stesse, non esporsi al sole o praticare attività sportive e di limitare gli spostamenti con l'auto nelle ore più calde. Particolare attenzione devono prestare i cardiopatici, gli anziani, i bambini e i soggetti a rischio, questo è ovvio e risaputo. Tenere sempre correttamente reggiati gli ambienti, inoltre provvedere a tenersi correttamente idratati bevendo acqua. Infine, la protezione civile ricorda di prestare attenzione anche agli animali domestici.